Io credo che noi possiamo puntare al risultato a due cifre, questo è l'obiettivo, dall'inizio ci davano il 6,3, adesso ci danno il 7, insomma qualcuno il 7,5, qualcuno l'8, siamo una forza in crescita e penso che altre persone verranno con noi, io continuo a guardare con interesse a movimenti della società civile, personalità che hanno dato vita al movimento per la difesa della Costituzione, che sono nostri interlocutori e quindi il processo di costruzione di questo movimento politico che è Liberi Uguali è ancora in corso. Ultima cosa, lei si candida, sì? E dove? In Puglia, dove scende in campo? La decisione finale dovrà essere ancora assunta dagli organismi, ci starà una consulta della comunicazione popolare, io ho detto che sono disponibile, naturalmente non sono disponibile in generale, sono disponibile se i miei elettori lo vorranno, i miei elettori sono i cittadini del Salento, io sono fedele, sono sempre e soltanto Stato parlamentare della Puglia e in particolare del Salento.